Benvenuto a Paolo Niccolò Giubelli, candidato per la Camera dei Deputati nel Collegio Plurinominale dell'Emilia Romagna per Più Europa, quindi all'interno della coalizione di centro-sinistra. Esatto. Ecco, veniamo subito al programma di Più Europa perché è un programma che ha alcuni punti forti. Pensiamo al tema dei diritti, dei diritti civili, pensiamo al tema dell'Europa, pensiamo al tema dei giovani. Partiamo dal tema dell'Europa. Noi ci chiamiamo Più Europa. Che cosa vuol dire Più Europa? Non è uno slogan, ha un significato molto preciso. Noi crediamo che la gran parte delle debolezze dell'Europa, che hanno alimentato anche l'emergere di partiti e movimenti anti-europeisti, siano dovuti al fatto che in Europa mancano ancora dei pesti, delle istituzioni. Noi dobbiamo delegare ulteriore potere, dobbiamo creare istituzioni europee più forti e rappresentative per affrontare al meglio le sfide che purtroppo abbiamo anche imparato a conoscere in questi ultimi anni. Bene, allora parliamo di sfide che sono appunto sfide non solo del paese ma dell'Europa e anche del mondo, insomma a livello globale. Ne parliamo a proposito dei giovani e del futuro dei giovani, visto che voi avete un programma che si chiama una generazione avanti. Sì, questo titolo insomma che è abbastanza sintomatico. Esatto, il titolo spiega che cosa? Spiega che poi al di là dei programmi, perché c'è un detto che dice l'uomo programma di Oride, ma la realtà è che noi abbiamo i giovani proprio come chiodo fisso. Perché? Perché le lancette dell'orologio vanno solo in un senso, vanno in avanti e quindi il futuro dei giovani è il futuro dell'Italia e anche il futuro degli anziani, perché poi sostanzialmente sappiamo che sono i giovani a tenere tutto in piedi. Quindi se diamo ai giovani la possibilità di un lavoro pagato in modo dignitoso, la possibilità quindi alle aziende di facilitare la loro assunzione, diamo loro gli strumenti per orientarsi nelle offerte formative che devono essere aggiornate in funzione del lavoro che poi si andrà a fare, beh io credo che molti meno giovani emigreranno in altri paesi e potranno trovare qua in Italia, che è un bellissimo paese e anche nel nostro bellissimo territorio, direi, un futuro dove costruire la propria carriera, la propria famiglia, il proprio futuro e noi abbiamo un disperato bisogno di questo, perché se i giovani non ci saranno il paese morirà. Parliamo diciamo del curriculum di Paolo Nicolo Giubelli che è ingegnere informatico, un giovane. Sono laureato in ingegneria, non sono ingegnere, l'ho preciso. Laureato in ingegneria informatica, titolare di un'azienda di comunicazione digitale, quindi siamo nel pieno della modernità, da sempre in più Europa da quando è nato, ma da sempre nel mondo radicale, da quando si occupa, diciamo così, di un impegno politico attivo. Ecco, per quanto riguarda il tema dei diritti, diritti di uguaglianza, diritti che vuol dire consentire pari opportunità a tutti, in modo particolare a quelli che vengono discriminati. Io vorrei che lei parlasse dei diritti delle donne, che comunque nonostante i passi avanti nei confronti, diciamo così, della parità di genere, sono ancora fortemente discriminati nel mondo del lavoro e anche nella vita sociale, nella vita familiare. Ah sì, io penso che il punto più importante da andare a guardare, al di là di tante cose che si dicono, è la disparità di trattamento economico delle donne nei confronti degli uomini a parità di mansioni, responsabilità e capacità. Penso che se non si risolve questo, difficilmente si possa parlare del resto per quanto riguarda le donne. Ecco, per cui sicuramente abbiamo in programma aspetti come tante cose, come ad esempio anche i congedi parentali, anche per gli uomini, per, diciamo, sollevare le donne da molti incarichi. Le donne sono la spina drossale della società, ma nessuno gli ha chiesto, cioè, o meglio, loro non credo che siamo contenti di esserlo senza, diciamo, averlo chiesto. Però tra tutte le cose, io ne pesco una dal programma che mi convince molto, è un po' sottile, che è questa. Se noi costringessimo, soprattutto le grandi aziende, a dichiarare annualmente nei loro bilanci, come fanno certe cooperative con i bilanci di sostenibilità, eccetera, il modo in cui hanno trattato le donne in termini di salario, di assunzioni, di licenziamenti, eccetera, rispetto ai loro uomini, io penso che, finalmente, molte aziende avrebbero molte cose da dire nelle loro pubblicità, nella loro comunicazione, e penso che fungerebbe da traino anche per le piccole, come è successo per la plastica, per tanti altri temi, beh, credo che sarebbe interessante. Poi ci sono tante altre cose più sostanziali, ma... Bene, la certificazione di genere, che diventa obbligatoria proprio entro quest'anno, potrebbe essere, potrebbe rispondere a questa esigenza. Parliamo di sanità, perché diritto alla salute importante, la pandemia ha messo in evidenza delle fragilità del sistema. Sì, allora, direi che innanzitutto bisogna pensare ai medici di base, alla medicina generale, perché loro sono stati mandati al fronte senza, evidentemente, tutto quello che serviva. Penso a riforme che consentano loro di svincolarsi da molta burocrazia, che abbiamo in programma, la possibilità ai professionisti di associarsi, dare loro un sostegno anche materiale, hardware, anche, cioè con strumentazione per fare l'analisi e quello che serve, perché io sono convinto del fatto, lo sperimentiamo quando ci ammaliamo, se il primo livello di assistenza funziona, tutto il resto è molto più semplice. Però il problema è che, purtroppo, c'è una carenza di medici di base e c'è una carenza nell'organizzazione che con la pandemia è stata veramente disastrosa. Aggiungo anche la formazione per i giovani, a partire dai giovani, in tutte le scuole, sulla prevenzione, perché la salute, purtroppo, quando si guasta, è già un pelo troppo tardi e non è possibile ancora confondere virus con batteri o cose di questo tipo. Serve veramente una cultura di base diffusa. Tra l'altro, Piero Angela, purtroppo, è mancato poco tempo fa, lui è stato veramente un grande maestro in questo e ce ne vorrebbero tanti. Quindi formazione e acculturazione che non passa solo attraverso la scuola. No, no, ma anche attraverso i media. Perfetto. Allora, una generazione avanti parliamo di sostenibilità, perché sappiamo da dove partiamo, ma non sappiamo dove arriviamo. Qual è la visione di un futuro sostenibile che ha più euro? Allora, io innanzitutto partirei dalla sostenibilità dei conti del nostro paese, perché qualunque cosa noi mettiamo in cantiere deve essere pagata e l'Italia ha un costante problema di, diciamo così, liquidità. Debiti pubblici. Allora, noi puntiamo innanzitutto a ridurre in un periodo abbastanza lungo chiaramente il debito pubblico di qualche punto, cercare di non ricorrervi, cercare di arrivare veramente a prendere tutto ciò che è possibile dal PNRR per fare quei lavori che ci serviranno per risparmiare domani, penso a tutti i disastri dovuti al clima, eccetera, no? Ecco, e mettere da parte quelle poche risorse per i giovani, per il motivo che dicevo prima, perché anche quella è sostenibilità, facendo in modo di non andare a debito, perché qualunque debito si faccia è contro di loro e questo nel tempo consentirà di sviluppare, diciamo, un'economia più forte e poi chiaramente ci sono i temi energetici che oggi sono molto importanti, anche qua abbiamo una serie di idee molto chiare sulla diversificazione energetica e anche questo è chiaramente un'agenda. Concludiamo Giubeli, chiedendo un appello ai giovani, nel senso che è fra i giovani che l'astenzionismo sembra sia particolarmente diffuso, perché dovrebbero venire a votare il 25 settembre, perché dovrebbero votare più Europa, perché dovrebbero votare lei? Allora, il 25 settembre ci sarà sostanzialmente la scelta tra due grandi schieramenti, al di là delle manovre di terzi e quarti poli. Uno schieramento in Europa andrà molto debole, perché fino a ieri flirtava con Putin, flirtava con Orban, era contro l'Europa, ha fatto di tutto per screditarla e demolirla e oggi vorrebbe andare all'incasso. No, non saranno credibili. Più Europa e il centro-sinistra, su questo hanno avuto sempre idee molto chiare, sulla collocazione dell'Europa nel mondo, sulla collocazione dell'Italia nel mondo e sull'importanza della costruzione europea. Queste sono le credenziali per portare a casa tutti i progetti che aiuteranno il nostro paese, in particolare i giovani, perché sono progetti rivolti al futuro. In bocca al lupo. Crepi, grazie.